Hello Freaks! Un piccolo messaggio da parte mia per voi, la vostra famiglia e i vostri amici per augurarvi un buon anno e un felice anno nuovo. Sperando che questo 2021 sia meglio del 2020, che ci lasciamo molto volentieri alle spalle e sperando anche di lasciarci alle spalle questi momenti difficili e questo 2020 un po' assurdo. E vi lascio iniziare questo nuovo anno con una frase a me molto cara, ovvero che il futuro appartiene a tutti coloro che credono alla bellezza dei propri sogni. Buona vita e buon anno!